Grazie a tutti. Questi test precampionato, quello di Cipro, quello con Bilbao o questo con l'Olimpia Corsa, cosa possono dare? Cosa stanno dando? Sicuramente una crescita della squadra, comunque ti ripeto, il gruppo bene o male ci conosciamo già da qualche anno, però con il mister stiamo facendo dei metodi diversi, quindi piano piano dobbiamo crescere e arrivare perfetti al campionato. Grazie a tutti.